e i nostri membri che sono venuti da ogni regione italiana. Appena tre anni fa, Presidente Renzi, la salutai in questo centro culturale come sindaco di Firenze. E' un onore che la accogliamo oggi come Presidente del Consiglio. E' la prima volta che un primo ministro italiano si lega in visita ufficiale in un centro culturale della Socracca italiana. Poco fa abbiamo firmato il testo dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Istituto Buddista Italiano Socraccai. E' un atto storico per la nostra scuola buddista e una giornata memorabile per tutti coloro che vedono nella libertà religiosa e nel rispetto di tutte le fedi la base di una società che vive e decidera la pace di un Paese che costruisce opportunità, che guarda al presente determinando un futuro di speranza e prosperità per tutti. Grazie a tutti.